...di Daniele Favalolo, giovane pittore che nelle sue ultime opere intraprende un'indagine sulla psiche umana. Abbiamo ascoltato, oltre al giovane artista palermitano, la presidente della sezione di Palermo dell'Unicef, Giovanna Cernigliaro, perché la metà dei ricavati delle vendite delle opere d'arte sarà devoluta proprio all'Agenzia delle Nazioni Unite nell'ambito della campagna contro la mortalità infantile nel mondo. Ascoltiamo. Che vuol dire andare oltre? Oltre significa per un istante soffermarsi a quella che è la percezione dell'infinito, ovviamente in una chiave propria, mia e personale. Infatti dalla disposizione delle opere si evince il mio percorso dentro l'anima, dalle cose negative alle cose positive. Ovviamente non tutte le opere di questa palestra sono state fatte con un'ispirazione ben precisa. Alcune opere nascono da un semplice colore, ecco questo, e poi da lì nasce, come si può dire, definisco anime che volano, ecco questo. Questa è la palestra che ho voluto presentare per l'Unicef. Questa mostra di quadri è collegata ad una campagna importante dell'Unicef contro la mortalità infantile. Quanto si muore oggi al mondo in teneretà? Oggi purtroppo sono 22.000 bambini che muoiono ogni giorno sotto i 5 anni. La nostra campagna, il nostro desiderio è quello di arrivare a zero. Zero bambini morti. Sono tantissimi i problemi che affliggono questi bambini. Praticamente andiamo dalle malattie stupide, dal morbillo, la diarrea, alle malattie più gravi come l'AIDS, perché non avendo i genitori un sostentamento adeguato, non hanno la possibilità di acquistare una sola pillola, un antiretrovirale, per far sì che non venga trasmessa la malattia, la madre ha figlio. Daniele è stato molto sensibile a queste problematiche dei bambini. Infatti ha realizzato questa mostra donando non solo il suo tempo, ma anche una parte del ricavato delle opere.